musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi sfida numero 13 dei 14 giorni di fortnite sfida semplicissima ci chiede di posizionare 13 dispositivi in modalità creativa quindi ragazzi molto semplicemente entrate nella modalità creativa accedete ad esempio anche creando una nuova isola io sono nella mia isola privata minchia so berlosconi e molto semplicemente vi equipaggiate ragazzi 13 trappole le piazzate e come vedete molto easy voglio vedere che cosa mi dà piazzate le tutte 13 io ho i tasti un po difficili 11 12 ok sfida completata quindi abbandono la mia partita quando la partita fa ritorno alla lobby abbandona vediamo se funziona ragazzi vediamo se funziona non ne ho idea spero di sì dovrebbero dare la copertura delle armi grande copertura discoteca tanta tanta roba ragazzi mi raccomando fatelo anche voi iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 17 ciao 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 Grazie a tutti.